ho fatto una tasa mi sembra un pochino del interno è un brano che ha fatto parte di un disco nel 2010 è un brano che ha fatto parte di un disco il piano il piano il piano Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti